Benvenuti a meteogiuliaci.it. Domani giovedì 2 febbraio si intensifica il freddo al centro nord con nevicate sulle regioni del medio adriatico e centrali persino in pianura lungo le coste e con piogge sulle regioni del medio tirreno sulle isole e al sud. Il tutto a causa di un vortice di bassa pressione sulle regioni centrali. Ma vediamo questa immagine che fa vedere come l'aria siberiana ormai ricopra tutta l'Europa eccetto la Britannia. Che tempo allora farà nella giornata di domani? Bene vedete le nevicate in pianura sul basso Piemonte, le nevicate sull'Appennino Emiliano ma soprattutto le nevicate lungo le coste, persino lungo le coste e anche in pianura sulle Marche, Abruzzo, Molise e Umbria e interno del Lazio. Nevicate a quote molto bassi e 200-300 metri anche sui rilievi campani e lucani dell'Alta Calabria e dell'interno della Sardegna. Per quanto riguarda le temperature queste ovviamente saranno su valori molto bassi soprattutto al centro nord e dove vedete valori anche al di sotto dello zero gradi. Bene termino qui vi ringrazio per l'ascolto, ancora un buongiorno.